Lidia Bonifazzi, l'ultimo arrivo in casa LPM, un arrivo che ha sorpreso un po' tutti ma sicuramente ha fatto felici i tifosi dell'LPM. Ma che sia una sorpresa mi fa piacere, sono ovviamente contenta anch'io perché far parte di una società che è tra le mine d'Italia ovviamente per me è un grande onore e quindi insomma buon lavoro a noi. Quattro stagioni trascorse con la maglia del cuneo è stato difficile o facile per te accettare la proposta dell'LPM? Ma allora innanzitutto il passato è stato un passato splendido che non rinnego, che mi ha fatto crescere, io mi sento cunese d'adozione e ovviamente se non ci fosse stato cuneo oggi non sarei qui quindi tutto il passato fa bene al presente e il futuro sarà buonissimo, lo spero, me lo auguro, ce lo auguro e quindi guardo al passato perché è giusto così ma sicuramente sono proiettata al futuro con l'LPM. Reparto dell'LPM che si completa quello del palleggio con il tuo innesto, tanta esperienza e sappiamo che c'è anche scola nello stesso reparto, pensi che ci possa essere concorrenza? Ma allora in una squadra è inevitabile che ci sia un po' di concorrenza, ma è giusto così perché altrimenti non si crescerebbe, sicuramente scola è molto giovane, mi fa sentire ancora più vecchia, lo ammetto, no scherzo, sicuramente lavoreremo tantissimo per migliorare sia lei come atleta che allo stesso modo io perché non si smette mai di imparare, quindi sono sicurissima che il nostro coach Delma ti farà un grande lavoro su di noi e io sono pronta ad aiutare in ogni momento ma sono sicura che al tempo stesso anche lei aiuterà me. Sta nascendo una grande LPM e conosci già qualche altra compagna di squadra? Sì, allora più o meno ci conosciamo tutte perché appunto sono state anche rivali sul campo di vista assolutamente, ma poi ripeto, lo ripeterò sempre, la rivalità è solo sul campo, poi fuori si scherza, si ride e si va a fare l'aperitivo. Però una in particolare che è la Midriano, è stata la mia primissima compagna del mio arrivo in Piemonte, abbiamo giocato insieme a Pinerolo ormai sette anni fa forse e quindi mi fa un sacco piacere ritornare ad alzarle qualche fast. Hai conosciuto i tifosi della LPM come avversaria, immagino che avrai un bel ricordo, ma in ogni caso qual è il messaggio e qual è il saluto che vuoi rivolgere ai tifosi? Allora il messaggio che voglio dare loro è sicuramente di continuare a tifare con il cuore, di sostenere con il cuore e di pensare sempre che se una palla non va bene quella dopo si potrà rimediare. Quindi un arrivederci all'inizio del campionato? Assolutamente sì, vi aspettiamo. Grazie. Grazie.